Oh, come li sto domando, oh, come li sto domando, sei dato sempre più provo a sto gioco Oh, oh, i numeracci, vai, SP, non ci credo, non ci credo, non ci credo Ok, salve a tutti, sono SP, giochi e bentornati in Aerscape Oggi continueremo la nostra avventura in questo bellissimo gioco platformer Che vi è piaciuto abbastanza, quindi, eccoci qui nel nuovo mondo Oh mio Dio, è diventata notte, cosa accadrà? Uh, siamo nello spazio! Ok, ci sono anche i lanciamissili, a quanto pare, ero lecce il checkpoint E c'è un cosetto che si sta fottando, ok, bene, mi sono dimenticato Che non ci sia grappe e mori, quindi, salta Parca, vai, prendilo Oh fuck, i missimi inseguro, salta Ah, c'è, in modo diretto, ok, riproviamoci Salta, salta, oh fuck, prendilo, bravo, bravo, salta Non ci credo, ok Non deve diventare un rage game questa cosa È un gioco tenere Mi sono confuso con l'altra palla Suona male, ma è così che è accaduto Piano 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 No, perché? Mi dimentico ogni volta che si girano la roccia Fotto di bastardi Vai giù Ok Stiamo riprovarci Con più convinzione, perché la convinzione è tutto No, ci sono messi Ok, ok, eh, spivantini la calma Aspettate, ma quello da recuperare non è che è qua in cima Non è che io salto C'è un ciccio da recuperare che se lo portano via Come faccio ad arrivare lì in cima? Vabbè, noi corriamo Ok, giusto, si può anche correre, me ne ho dimenticato Prendi questo, corri Vai Prendi Yes Prendi il coso? Dove sta l'affare? No No Piano Oh mio Dio, cosa non è questo gioco? Oh mio Dio, cosa sta diventando? Ok, a quanto pare Come potete vedere In basso, in sovraimpressione, come dicono E le trasmissioni televisive Fuck you Super fighe Ah, in pratica, uno dei nostri cosi da salvare Se ne è fottuto Perché in pratica, c'è una sorta di countdown Che dice Eh ciccio, ne è fatto in tempo È morto Eccolo, infatti Era qui Come si fa ad arrivare in quel posto? Vedete quel posto dove c'erano le lineate tratteggiate? Con il cerchietto tratteggiato? Ecco, lì È dove c'era il ciccetto da salvare Da salvare No Non devi premere queste cose Espy Va Vai Yes Ce l'abbiamo fatta Oh mio Dio È stato un panico questo livello Non abbiamo nemmeno salvato il coso Dannazione Mi sa che inizieremo Non so Ci sarà un deficit di cose Qua c'è un pussante Che apre questo Oh, per fortuna non c'è Oh, non abbiamo fretta in questo livello Oh, Gesù Grazie Grazie, signore Grazie Grazie, signore Grazie Qua ci sono tre porte da aprire Ma, ma, ma Non so dove trovare gli interruttori Quindi facciamo passare questo affarino qua Oh, ok Oh mio Dio Senso Dell'orientamento Che Mamma mia il pelo Che non ha espi Salta Bravo lui Ottimo Ritorniamo e prendiamo il checkpoint Sperando non aver fatto una cazzata Che succede? Oh, bottone Yes E poi Spara Bravo lui Bravo Oh, fuck, 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 fuck Corri, corri, corri Mio Dio È epico questo gioco È fottutamente epico Ok Prendiamo di nuovo il checkpoint E mi manca un altro di quei Gli schi Aspettate Ecco qua Ecco qua Vai Salta Vai Bravo Perfetto No Oh mio Dio I rischi Uh, e finisce Quale livello Like a motherfucking pro Next level Questa è una bomba immagino Sì, è una bomba Ve lo santo provare per far il figo Allora, vediamo di qua Cosa c'è No, c'è un altro a tempo No, c'è un altro a tempo Fottiti Vai, corri Sono un pirla Ok Si può ricominciare C'è un modo veloce Ok, con il back si comincia Ok, allora Corri 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 No Come fai a scivolare così? Mamma mia Ralenti Mamma mia Di questa cosa Va bene Facciamo una bella cosa Andiamo in avanti Scoperta Vediamo dove sono I fottuti cosi Da Ok Gli sassi Non sono affidabili Non fidatevi mai Dei sassi Delle brutte Brutte Persone I sassi servono Alla fine Sono brutte persone Ma servono Che altrimenti Non riuscite Andare oltre Vedete Salti così Salti così E bam E qua chissà dove cacchio Devo andare Ok, mi sa Quella La fredda è perso Quella Quel fottuto Pocio Quella cincetta è perso Vai, vai, vai Salta Non ci credo No Ce l'avevo quasi fa Porca Piano Guarda Guarda Se fai le cazzate Guarda Ti ammazzi Se fai le cazzate Ok A parte che ti ammazzi da solo Ed è già abbastanza Non ci Ma l'avete Ok, ok, ok Esprimati la calma Non Inizia a parlare In serpentese Sei cazzato Vabbè Ok, là c'è un checkpoint Facciamo così Occupiamoci del checkpoint E poi Pensiamo al resto Mio dio il parto Che non è questo Cosa succede? Ok No Cristo Ok Andiamo di qua Forse non riusciamo ad arrivare Da questa Da questo posto Ok Ce l'abbiamo fatta? Mio dio Come ce l'abbiamo fatta? Com'è che posso riuscire ad arrivare là? Non ce la faccio Ma non ce la farò mai nella vita Non ce la farò mai Comunque lì è la fine del livello Qua ci sono altre cose da evitare? Mio dio l'ha provata? Eh, eh Qua non so cosa fare C'è ciccio Eh, boh Non lo so Oh Come li sto domando Oh, come li sto domando Sei dato sempre più pro a sto gioco Oh, i numeracci Vai Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Yes Miracolo Adesso tutta la calma del mondo Ho soltanto arrivato il checkpoint Il pelo che non l'ho fatta quella cosa Yes Sì Sì Checkpoint Fuck yeah Ah, volevi andare direttamente là Perché pensi di essere furbo? Ok, lo facciamo Fuck the system, bitches Vabbè, qua è easy peasy Perché cacchio me lo fate fare Dai, su Vai oltre Qua basta stare sulla roccia Saltare E boom, bitch Mio dio Che panico Che panico assoluto Eh, lo so Ne abbiamo presi due Ce n'è scappato uno Ma frega cazzi Insomma Quanti ne mancano Otto Aia Aia Vabbè Proviamo quest'altro Speriamo che sia più facile No No Ci sono i cosi I soffioni qua Ah, che cazzo Ok Ok Sembra Diver... Oh, Cristo L'acqua di nuovo, no No Ci sono i soffioni con l'acqua Sì No Non ci credo L'ho preso L'ho preso Tentando più volte Va bene Ci sta tantissimo Salta Nice Salta No 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 Fuck the system Ok 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 Torniamo indietro Riprendere quello a fare Vai Ma sei proprio basta E non è neanche difficile da prendere secondo me Ma nella prima parte del livello Ora diamo un'occhiata veloce No, 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 no Assolutamente Voglio ritornare Ritornare la mappa E vedere Se Zitto Me ne frega Dopo lo sblocco Tranquillo E vedere Se Nella prima parte Perché nella prima parte L'abbiamo riflettuto assolutamente Mi siamo lasciati trasportare È tipo qua sotto C'è spiaccicato Tipo No No, no, no Piano Fermo Fermo No Fammi vedere Oh Che bastardello Che sei Quindi devo prendere un po' di rincorsa E No E niente Oh yes Preso Facchia Ma devo tornare Sì Devo fare il livello Yes Nice E passa a questo livello Con tutti e tre I cicci Ottimo I cosi I poci Level complete Quindi gente Questo era Aerscape Un altro episodio Spero vi sia piaciuto E spero che vi vogliono vedere altri episodi In questa fantastica serie Quindi non dimenticate di lasciare un bel mi piace Un commento qui sotto Dicendomi Oh mio dio Espi continua Perché è una figata Alla prossima Ciao Ciao